pillole di teologia di fulvio ferrario cari amiche cari amici in ascolto benvenute benvenuti per questa nuova puntata di pillole di teologia io sono fulvio ferrario pastore della chiesa valdese vi parlo sulle frequenze di radio bequit con la collaborazione tecnica di michele lipori stiamo parlando del credo nelle ultime puntate abbiamo esaminato le grandi spesso un po oscure affermazioni su gesù che sarebbe dio da dio luce da luce che sarebbe nato ad opera dello spirito santo e si è incarnato nel seno della vergine maria insomma ci siamo un po mossi tra cielo e terra tra grandi rappresentazioni spirituali un po anche filosofiche metafisiche parole strane e la questione che appassionato e appassiona relativa alla nascita virginale o meno di gesù oggi parliamo invece di una realtà che si colloca decisamente sulla terra e che ci porta nelle regioni brutali e cariche di dolore della storia delle donne e degli uomini ci colloca anche là dove il potere esercita la propria forza nel modo più brutale il credo parla di un'esecuzione gesù fu crocifisso si dice per noi sul significato di questo per noi torneremo ma intanto fu crocifisso sotto ponzio pilato cioè l'unico personaggio a parte la vergine maria umano che entra nel credo è questo procuratore romano di cui sappiamo qualcosa è un grandissimo farabutto pare che i romani l'abbiano costretto a suicidarsi a un certo punto come facevano a volte con i loro funzionari che erano diventati ingombranti o che erano particolarmente crudeli e come oggi si dice crocifisso impresentabili insomma la croce di gesù dopo tutte queste affermazioni sull'alto dei cieli sulla presistenza sull'incarnazione la croce di gesù ci precipita improvvisamente nella storia gesù è stato crocifisso secondo il racconto evangelico che sicuramente su questo punto presenta la realtà storica nella sua nudità è stato crocifisso insieme ad altri due che vengono tradizionalmente chiamati ladroni il termine greco è abbastanza ampio molto probabilmente si tratta di rivoluzionari che per motivi religiosi volevano cacciare militarmente attraverso appunto una lotta armata i romani dalla palestina ritenendo che il dio di israele fosse l'unico re e che quindi l'imperatore fosse un usurpatore gesù è stato ucciso insieme a due delinquenti politici è stato crocifisso la crocifissione era la pena che roma riservava agli schiavi fuggitivi e appunto ai rivoluzionari politici non veniva applicata per la sua crudeltà molto particolare ai cittadini romani che venivano benignamente decapitati in caso di esecuzione capitale appunto era una pena atroce ma molto diffusa al tempo molto diffusa in palestina molto diffuse anche in generale i rivoltosi di spartaco sono stati crocifissi tutti quanti 6.000 lungo la via appia era la croce il modo in cui il potere romano manifestava il fatto che non si sgarrava cioè roma sapeva anche essere tollerante in un certo senso e dentro certi limiti ma se questa tolleranza costituiva per alcuni un'occasione diciamo per mettere in discussione ciò che in discussione non andava messo cioè il potere assoluto dell'impero dei suoi rappresentanti e delle sue strutture ecco allora la punizione era severissima gesù è stato ucciso da ponzio pilato perché questo procuratore romano si è occupato di gesù su questa domanda vale la pena riflettere con maggiore attenzione per quanto ne sappiamo gesù non era un rivoluzionario non avrebbe dovuto essere un tipo interessante per il procuratore romano allora come si spiega la sua uccisione normalmente appunto roma si occupava di questioni assai diverse dalle dispute teologiche tra ebrei per quanto il nuovo testamento ci racconta l'attività di gesù si è svolta in diverse regioni della palestina in particolare ci viene raccontata la sua opera in galilea cioè nella parte settentrionale della palestina dove c'era nazareth nella regione di gesù diciamo e poi la sua opera a gerusalemme in galilea gesù si era scontrato sempre secondo i racconti neotestamentari si era scontrato con soprattutto esponenti del gruppo dei farisei cioè un gruppo di personaggi ebrei molto attenti alla messa in pratica della legge si era scontrato su questioni di interpretazione appunto della scrittura di israele interpretazioni della volontà di dio gesù era ritenuto da questi suoi oppositori secondo quanto ci raccontano gli evangeli era ritenuto uno un po fuori dagli schemi che aveva un'immagine di dio che non sempre coincideva con quella che veniva incarnata dagli interpreti più o meno ufficiali in realtà noi sappiamo che l'ebraismo del tempo era molto diversificato è un fatto però che stando al racconto evangelico la figura di gesù appariva un po eccentrica gesù predica poi a gerusalemme secondo il racconto degli evangeli di matteo marco e luca egli si reca a gerusalemme alla fine della sua vita secondo giovanni c'era già stato prima è difficile risolvere la questione dal punto di vista storico fatto sta che quello che ci viene raccontato è che a gerusalemme lui compie un'azione che anche una predicazione nel tempio e suscita una grande attenzione che fa gesù predica dicendo che il tempio viene utilizzato come una specie di scusa religiosa da coloro che in realtà non fanno la volontà di dio ma siccome praticano la religione del tempio credono di essere a posto non è un messaggio nuovo di per sé è un messaggio che caratterizza anche il ministero dei profeti e infatti secondo il racconto evangelico gesù quel giorno il giorno della sua predicazione nel tempio e sul tempio cita il profeta geremia certo che il tempio è un posto molto importante a gerusalemme la guarnigione romana lo sorveglia dalla propria caserma che posta esattamente al di sopra nel tempio si svolgono le cerimonie di israele ma si svolge anche una larga parte della vita pubblica di gerusalemme la predicazione di gesù è un gesto profetico di gesù che come si sa è molto famosa la narrazione rovescia i banchi dei cambiavalute cioè di coloro che cambiavano le monete che potevano non potevano essere utilizzate per l'offerta al tempio e i banchi dei venditori di colombe cioè coloro che vendevano gli animali per il sacrificio ecco gesù gli rovescia dicendo insomma quello che conta non è la religione del tempio non è la religione dei sacrifici ma è una vita secondo la volontà di dio ecco questo gesto di gesù colpisce molto a quanto pare la sensibilità degli abitanti di gerusalemme e inquieta il procuratore romano lo inquieta perché quando nel tempio ci sono dei tumulti qualcosa non va bene secondo il racconto evangelico è andata così che i capi religiosi in particolare dei gruppi sacerdotali cosiddetti sadducei sono riusciti a convincere il procuratore romano ponzio pilato che con loro non andava d'accordo ma per una volta si sono accordati sul fatto che questo gesù era un elemento di disturbo e andava eliminato questa è la versione dei vangeli la morte di gesù dal punto di vista storico è il risultato della strana collaborazione tra le autorità ebraiche del tempio e l'occupante romano per gli uni gesù era un pericoloso innovatore religioso per gli altri non si sa comunque un elemento che faceva confusione e che creava disordine in ogni caso andava eliminato il credo fa eco al nuovo testamento dicendo che la morte di gesù che certamente come abbiamo visto è il prodotto dell'incontro tra forze storiche potenti che vogliono liquidare un elemento di disturbo è anche però un intervento di dio per noi e questo è abbastanza strano in che senso nella morte di gesù dio interviene per noi vorrei provare a raccontarlo almeno per alcuni aspetti perché si tratta di un'affermazione estremamente ricca e che può essere guardata da diversi punti di vista vorrei provare a raccontare questa affermazione il suo significato seguendo lo sviluppo della narrazione dell'evangelo di marco chi ascolta può provare a rileggere questa pagina nel capitolo 15 di marco alla luce di quanto cercherò di dire marco racconta la morte di gesù come una specie di trittico cioè quei quadri che hanno tre parti chiaramente distinguibili in mezzo c'è gesù che muore accanto a questi due ladroni a questi due personaggi condannati come lui da ponzio pilato e alcuni tra gli astanti dicono beh ma se questo gesù era veramente una persona così importante come diceva di essere se era il figlio di dio eccetera certamente dio verrà a liberarlo invece questo non succede dio non scende a liberare gesù ma gesù muore dando un forte grido non possiamo qui scendere nei dettagli ma certamente la narrazione di marco che è la più antica è anche la più sobria e la più violenta nel descrivere la morte di gesù gesù muore come muore un uomo sulla croce cioè disfinimento e in mezzo al dolore e alla disperazione muore dando un forte grido già gli altri evangeli l'evangelo di matteo l'evangelo di luca e poi in modo molto massiccio giovanni faranno su questa daranno di questa morte un resoconto molto diverso gesù muore dando un forte grido invece secondo marco e attenzione marco ci racconta che un centurione verosimilmente il capo del plotone di esecuzione di quelli che hanno ucciso gesù vedendo come moriva disse veramente quest'uomo era il figlio di dio è un racconto impressionante che cosa vuol dire naturalmente non vuol dire che gesù è morto dando un grido così forte che solo un dio poteva gridare così come peraltro mi è capitato di ascoltare in alcune prediche a mio parere piuttosto stravaganti no marco vuol dire che l'unico che riconosce la verità di quello che accade in gesù è un pagano un centurione mentre gli uomini della religione si chiedono se dio arrivi dall'alto del cielo a tirarlo giù un centurione vedendo gesù morire confessa che in lui dio si manifesta come uno diverso da quello ci si sarebbe aspettati dio cioè non è colui che compie prodigi appunto come zeus o come gli dei dell'olimpo greco dio è colui che si rivela nella debolezza e nella nel dolore di un uomo che muore è un dio diverso questa è la tese di marco che ci viene presentata in un modo così paradossale che gli stessi autori del nuovo testamento hanno avuto difficoltà a recepire e infatti edulcorano in vario modo ma per marco quando si dice che gesù muore per noi si vuol dire anzitutto questo gesù ci porta un dio diverso un dio la cui onnipotenza non consiste nel risolvere magicamente tutti i problemi ma consiste anzitutto nello starci accanto nella vita in questo mondo con le sue difficoltà con le sue promesse ma anche con le sue con le sue lotte dio non è zeus in versione cristiana dio è un altro colui che ti sta accanto come ti stava accanto gesù questo dio viene descritto viene qualificato da matteo in un modo molto felice è l'emmanuele che vorrebbe dire il dio con noi non sopra di noi non senza di noi ma con noi in questo mondo è tutto qui il significato della morte di gesù no non è tutto qui e cercheremo di dire qualcosa d'altro nella prossima puntata quello che è vero però è che tutto comincia da qui da questo dio diverso che si manifesta nella croce di gesù cristo fulio ferraio vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento per la prossima puntata di pillole di teologia